Ciao, non è per me Aspettate la domanda Grazie al cazzo E rispondete e la prima volta sarete salutati Inoltre seguitemi on the my instagram Comunque si ragazzi sono appena usciti i Movember player signori Sono delle carte che hanno raggiunto su put Ormai questo put sta diventando un qualcosa di assai assai misterioso Ma ora signori bandare ciance Dopo questi 46.000 coin sprecati perché non troveremo niente Vi mostrerò delle clip perché come potete vedere prima lì c'erano 6.000 FIFA Points Che ho spacchettato per divertirmi e vedere le cose ho trovato Intanto vediamo se qui riusciremo a trovare qualcosa di veramente potente Let's go Andiamoci ad aprire questi 6-7 pacchetti che sono Attenzione primo pack Iniziamo molto ma molto male Let's go second pack bitch Second pack bitch Attenzione è il secondo pack Dai signori fino a 2 secondi fa ho sculato come un turco E ora non trovo più niente Io già lo sapevo signori Non dovevo sprecare questi 40.000 crediti Perché sto andando sa quelli forza Let's go Sul ritmo della noce Attenzione Io esco Maria Definitivamente qua dietro Fai il bravo Riaggiorniamo i pacchetti Andiamo Attenzione Ames No vabbè signori no 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 si è buggato FIFA dai FIFA 3 pacchetti sono rimasti intanto FIFA Dai Dai ok Horroraro Cioè meglio Terzino destro Italiano Deario Ma Florenzino Voraccio che si è spaccato Sad Florenzi Mi dispiace per te De la SPAC Ho lavato la SPAC Ok la SPAC Portiere italiano Marchetti Ora ragazzuoli vi faccio vedere velocemente le clip di prima diciamo Mentre stavo spacchettando e ovviamente lo stavo registrando Allora ve la faccio subito vedere Eccoci qua signori Primo pacchetto dove ho veramente sculato Ero con Di Maria Attenzione Guardate qua Si apre il pack 1 2 3 Movember In a pack signori Guardate qui E' un Pedersen Rated 67 Che vale la bellezza di quasi 15.000 crediti signori Ma guardate che spettacolo che sono questi pacchetti Guardate la bellezza dei giocatori Guardate qua quanto sono strani Ovviamente vi sto mostrando le clip in questo momento perché le avevo preregistrate Potete vedere il nome dell'account che è lo stesso di quello con cui ho appena spacchettato Quindi ragazzi non rompete le scatole per piacere Come possiamo vedere qui abbiamo trovato il grandissimo Pedersen Poi continuando a spacchettare Ci apriamo un pacchetto dopo e mi sembra che non è uscito niente Un giocatore neanche oro non raro Esatto Non abbiamo trovato niente qua ragazzuoli Vado a scartare questo pacchetto O a conservarlo mi ricordo L'ho scartato esatto Vado a riscattare i 3.000 crediti Secondo me c'è stata una bustata in quel momento Non so cosa sia successo Apro un altro pacchetto Con Marziale questa volta signori Attenzione Si apre il Ah no non era questo Scusate Epic fail Hashtag Italox fail In a pack E' il pacchetto quello dopo ancora con Di Maria signori Eccolo qui dovrebbe essere questo Di Maria si apre E di nuovo Bob Amber in a pack ragazzuoli Guardate qua Bim Ledley Che va in la bellezza di 30.000 crediti al momento Ora stanno tutti sulla lista di trasferimenti E troviamo Ledley signori incredibile Guardate qua confrontiamo il prezzo Vale è così 15.000 crediti a 8 minuti dalla scadenza Quindi si sarà alzato sicuramente E poi ragazzuoli per non finire Nei pacchetti successivi Trovo anche Aspettate fatemelo ritrovare Mi sembra che sia questo Si pacchetto successivo Ericsson 84 E vicino Troviamo pure Il bomber Lucas Che valga o no Comunque sia In totale Tutte e due Intorno ai 20.000 crediti Quindi ragazzuoli Io spero vivamente Che questo pack opening Vi sia piaciuto Ma ora è il momento Della domanda A cui dovete rispondere Per essere salutati La prossima volta Guardate un trucco Bellissimo Boom Accorre con qualità signori Ho acceso un'altra luce Comunque Come vi stavo dicendo Dovete rispondere alla domanda Vediamo Allora ci penso un attimo La domanda di oggi È davvero Davvero facile Chi è L'IF Più forte Che è uscito Fino a questo momento In FIFA 17 Rispondi velocissimamente Alla domanda E sarai salutato In un prossimo video Se hai risposto correttamente Quindi ragazzuoli Come sempre Qui da Dalox È tutto Lascia un like Un commento E iscriviti Se ancora non l'hai fatto Come sempre Qui da Dalox È tutto Di Dalox Stink Differente Ragazzi Differente